Chiedilo a Suor Caterina e a Suor Lizzi, che a Betlemme hanno creato una famiglia per gli anziani poveri e soli al mondo. Chiedilo a Gaetano e alle famiglie che ad Amatrice, dopo il terremoto, hanno trovato un aiuto per ricominciare. Chiedilo a Chiara, che in un doposcuola di Terlizzi trova tutto quello che ogni bambino dovrebbe avere. Loro sono i testimoni diretti di cosa Lotto per Mille alla Chiesa Cattolica fa per i più deboli. Loro sono Lotto per Mille in persona. Lotto per Mille alla Chiesa Cattolica fa per i più deboli.